Ciao a tutti sono Spiegelaventurato e benvenuti in un nuovo video qui sul mio canale Aspettate che avvio il timer, eccoci qua Allora, mi servono le mie torce, ho anche fame Allora, oggi lasciamo un po' perdere l'industrial craft Che sarebbe la mod delle fornace, cioè dell'electric furnace, insomma della batbox Delle energie insomma in generale E iniziamo a trattare un'altra mod di energia, però prima andiamo a nanna Eh, boh, perché ci sono i bastardi So che c'è un ragno sopra casa Ipermalefico No No Pacone Boom Devo correre a casa Ho sentito qualcosa? Corro Chiudi Ora possiamo andare a nanna Allora, stavo dicendo, oggi prendiamo in considerazione una mod di cui non ricordo assolutamente il nome Eh, che sarebbe questa? Quella degli engine Non ricordo il nome, però prima o poi lo scoprirò Allora, noi ti diremo con basti in engine, ma per prima cosa dobbiamo fare un'altra cosa Innanzitutto Dobbiamo andare nel nether Io adesso non ricordo se avevo già preso della obsidian Ma credo, no Tium 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 No Spero di avere dei diamanti Ce la posso fare Non ne abbiamo Però, noi abbiamo questa, la minimum stone Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 10 Ora Mettendoli in una crafting table qualsiasi Basterà fare così Tac 1, 2, 3 E ne abbiamo appena Trasmutati Ora ci sono gli stick che teniamo Oddio, che succede? Tros Eccomi qua Dicevo, gli stick che teniamo qui Eccomi qua Ne servono solo due Eh, li mettiamo qui 1 e 2 Ed eccoci qua il nostro piccone di diamanto E ora vado in una In una caverna, ecco, non mi veniva il nome Però, ho bisogno di Cibo Anche se ne ho poco, però Anzi, per esempio, tipo Ecco, due mele Ma va bene, va bene Ora vado in caverna Lo faccio off camera Perché tanto devo solo prendere un po' di obsidian Di obsidian Niente di speciale Qua c'era una caverna Oddio, ho sbagliato tasto Ho cliccato control invece che shift A proposito Potrei usare questo Basta Prendo un secchietto d'acqua Un secchietto La butto sopra Creo l'ossidiana E ci vediamo Tra pochissimo Ah, fra poco Cazzo Ho raccolto dieci di ossidiana Ma mi è caduto il piccone Ma perché? Ho sbagliato No, l'ho rifatto No, non ho niente in mano Ho sbagliato Tasto invece Ecco, l'ho rifatto di nuovo Invece che calcare W ho calcato la Q Ho fatto così Ed è caduto lì Ero qui Dove ho buttato un po' di acqua Che avrei raccolto da qui Vabbè Non fa niente Abbiamo perso tre diamanti Però abbiamo la Obsidia La nostra farm d'alberi Ci ha dato una mano Perché ci sarei tanta legna Ma non ora, dai Ma Qua quanta legna sta giudendo? No, così Per informazione Voglio vedere una cosa Scusate la Insomma Cambio di discorso però E' tantissima legna Questa me la prendo Giro troppa legna Mi sa Quasi quasi Anche qua Faccio scegliere Tra qui E una cesta Ma si Ma lasciamo Questa cesta Dovrebbe dividere No? Quando non c'è spazio qui Valla E se io tolgo questo Deve tipo Funzionare Cacchio Non ho Buon Però basta Che faccio così No Non basta Che faccio così Perché non la prende Quella Perché non Prende questo Hawkwood La prende 16 a 16 Ma chi te l'ha detto 16 a 16 E vanno là Perfetto Adesso qua Ho completo lo stack Questo legno me lo prendo E andiamo Allora Come ho detto ho preso anche un Secchiello di lava Perché ci potrebbe servire Non si sa mai Allora Quello che facciamo oggi Ve l'ho già spiegato in breve Però adesso Ve lo spiego meglio Ah che bello Di nuovo qualcosa pieno Questo di qua Allora Innanzitutto dobbiamo andare nel nether Come vi ho già detto Il portale Lo facciamo Lontano da casa Perché mi dà fastidissimo Il rumore che fa C'è una flint E un Iron Ah mettiamo flint qui Iron qui E facciamo il flint and steel Che serve un Un acendino Sono tipo Dislessico Gpu del solito Insomma Non è che ci voglia molto Però Va bene Facciamo Dai si risparmiamo Un due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Nove Dieci Questo lo li abbiamo Tac Tac Taradam Ok Ora io mi addentro Lo faccio generare E poi ci vediamo Ah frappè Eccoci qua Potrebbe lagchicchiare Perché Naturalmente sta generando Il mondo Il nether Anzi Ecco in questo caso Ha generato quella parte Ora non ci serve Della lava Dobbiamo semplicemente Trovare Oh no No fermi Non ho messo Il punto Alla situazione No scherzo Cioè Non ho messo il punto Al portale Ho sbagliato tasto Oddio sto facendo un casino Ok Portalo Ok Sì Funziona bene Perfetto Ora devo andare a cercare Della lava Ci servirà La cerco con voi Tanto Non dovrebbe esserci Molta Difficoltà Insomma Siamo nel nero Ci prendiamo anche un po' Di soul send Che ci servirà Un futuro Non spoilerò niente Che palle sta soul send Perché va così lento Ci servirà un po' Di glowstone Piccon house Come vedete è molto facile Da scavare la netherrack Ma credo che lo sappiate tutti Più o meno Zack 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 Ne prendiamo giusto un pochino Per dire Ce l'ho Ho ho Mettiamo una torcia Che non serve a niente In questo caso Però Non ci interessa Ci serve una tozza Bastardissimo Sto piccione maledetto Fanculo Lo stronzone di merda Non ho neanche cibo Se mi fai morire Ti uccido Ciao Allora Mi spiego Questi maiali Sei un maiale Tua padre O maiale No scherzo Se ne attacchi uno Insomma Gli amici Ti spaccano Ti aprono Ti E cioè Ti vogliono tanto bene No scherzo Se tu ne colpisci uno Anche solo colpirlo Senza ucciderlo Gli amici stronzi Ti fanno La bua Ci potrò Mai arrivare A quella pozza di lava Grazie Oh cazzo No Posso correre Fa più Oh 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 Non so che a che fare Con chi ha a che fare E con la pozza di lava Ora dovremmo Arrivare Quasi qua Li metto I keep in vendoli No scherzo Oddio Non sarebbe una cattivissima idea Sarebbe un cattivissimo Ma Oh no Non era una battuta Mettiamo un po' di acqua No scherzo Non si può mettere l'acqua Nel nader Ma perché le fanno così in basso Le Mi è sceso in infarto Credevo di Di stare per cadere Stare per cadere Si può dire Sì Io lo posso dire Perché io sono io E non siete un cazzo Oh Oh eccoci qua Nella pozza di lava Allora Allora mettiamo un segno anche qui Pozza di lava No figlio di Grandissima puttana No No Calmi Devo attivare Il death point Perché tanto sto per morire Death point in aplet Calcherò 9 E ti ammazzerò sapilo Che figlio di Stranzo No Nella lava Ti odio Ti odio Enrico Mi è un fratello Per me Ti odio Ti odio Ti odio Vado a recuperare la roba Ci vediamo tra poco Amen Eccoci qua Ho recuperato Tutto credo Le cose più importanti Per lo meno ce le ho Tipo questo E niente Ci vediamo tra poco Perché devo fare una cosa velocissima Eccomi qua Allora stavamo dicendo Credo che userò Direttamente quell'isola Lì Ho perso le torce No Le mie torce Vabbè Oh merda Non so neanche da dove sta arrivando Ecco sta arrivando Ti vedo Aiuto Ok devo trovare una via Ok scaverò Il piccone Ho perso un po' di cose Azzo Ho perso anche il piccone L'unica cosa importante È che non ho perso È la minimum stone Che è importantissima Anche se non sembra È proprio stronzo Quel Johnny Allora No Tu sei uno stronzo Quindi ti uccido A prescindere Quello che dobbiamo fare ora È non tutto Tornare Al portale Por caccia Sta spaccando Le Vai Azzo Userò La soul sand Che mi renderà veloce E agile Merda Grazie Ti ringrazio Ti amo No Ma chiù Ma fa chiù Ti odio Ce la faremo mai Lo vedremo nella prossima puntata No scherzo Oh no La soul sand No Potresti tipo Ecco Muoverti Che ci fa della grave Della grave È molto grave No basta Sto scherzendo Ti odio Ti odio Magari ci facciamo Cazzarola Ci potevo portare un libro Poi vi spiego Intanto speriamo di arrivare vivi a casa Perfetto Spero che non sia notte Naturalmente sarà notte Ora caricherà il mondo Quindi ecco Potrei tipo laggare Se magari non sbagliassi il tasto E non caricassi la Invece che La W O magari la Q Perché ho perso Oddio che lag Si carica il mondo Bravo Mi servono torce Mi servono assolutamente torce Ma io non ho Non ho così Non ho coal Bene allora Ora che Ci siamo andati a fare Una piccola ricondizione Nel nether Ci dobbiamo Prendere Ci dobbiamo prendere Non si può sentire Allora innanzitutto Mettiamo a posto questa roba Tac Tac Ehm Si ne prendiamo uno stack intero Questo ne prendiamo anche tre Le mettiamo così Perfetto Ora Dobbiamo fare una cosa importante Dobbiamo fare una piccola casa In quella Isoletta che c'era in mezzo alla lava Vi spiegherò il perché Molto presto Innanzitutto Dobbiamo mettere sempre una cosa Naturalmente non ce l'abbiamo Non ce l'abbiamo Ah ci picchi E ci tocca andare di nuovo a piedi Però C'era un piccone Di ferro? Lo vogliamo di ferro? No Come troppo Però per averlo di ferro What the fuck In che senso? Lol No Allora Questa parte Potrebbe essere un pochino noiosa Forse la faccio No vabbè Non è noiosa Più che altro è lunga No neanche Lo semplice fare Lo semplicemente E fare una base Una Piccolissima base Nel ne da Nel ne da Però mi suicido Abbiamo una cesta Ne abbiamo più di una Benissimo No No E mi suicido Non lo so Facciamo così Faccio Voglio morire Voglio morire Ok ci rivediamo tra poco Quando muoio Ok ce l'ho fatta Perfetto Recupero la mia Innanzitutto la mia roba Poi Tac 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 A te Per restare Ready per sempre E tu sei cresciuto Era ora Recuperiamo Un po' di Experienza Experienza con la X L'abbiamo persa Tutta Tutta Ah E cancelliamo Anche questo Death point Death point Death point Tac 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 Ok Mi sa che non ho messo Way point Nella laoma Tante facili da trovare Poi se non è Quella è un altro Giacimento Andiamo nel nero Anzi magari Ci costruiamo Allora vi spiego cosa voglio fare Voglio mettere una semplissima pompa Ah ah che ridere no Eh ok Eh una semplice pompa Che aspira Eh la lava Ce la porta nel mondo normale Ora Per portarla nel mondo normale Serve un altro Un altro Non macchinario Un altro aggeggio ecco Allora noi per adesso Non lo facciamo ancora Perché tanto È tutto in fase di costruzione Comunque sia Quindi Non avrebbe senso Cioè Anche perché non credo Che ci basterebbero I materials Eh sì Così Bene Quindi ci facciamo una pompa Una Pump Eccola Che va ad energia Però La produrremo Quindi C'erano Iron pickax Quindi Allora 3 6 9 Nazz Ci vuole un po' di ferro No 3 6 9 13 13 13 pezzi di ferro 2 stick E una redstone Eh 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 Redstone Allora Innanzitutto facciamo la picca One Two Ce la posso fare? Sì Poi Scusate un attimo Eccomi qua Scusate Chiamata da molto molto Da Da mia madre Allora Stavamo dicendo One Two Three Four Fail Fail Assurdox 1 2 3 4 Facciamo così Mettiamo qui Ce la posso fare? Ma che cosa sto facendo? Ma Ma Mi dovete fermare Quando io faccio queste Stregonerie Pazzie 1 1 Ok Poi ci voleva Qualcos'altro No Olè Opla 3 No Pirriwi Provo Sì Ci voleva Radstone Diciamo così Ci vale un pochino Di vetro Quindi 1 2 3 4 5 6 Magari anche 7 Così Per gradire La mostarda Non so cosa sto dicendo Ma neanche cosa sto facendo Perché non mi manca uno 1 3 Perfetto Ok Abbiamo fatto una pompa In che senso? Non me lo dico Testimone di Geova Prego Oh Ma io non sono abituato A me Ce l'ha accettato Devi morire Devi morire Andiamo a nanna A nanna A nanna Spiegare Quanto ha da drone Mi sembra giusto Alloga 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 Ok Sono Un malaticcio No Allora Sì dai Il resto lo mettiamo Più là Quando avremo Un'altra cosa Di cui non posso dire il nome È che Muori Sei veramente andato nel nether Quindi io adesso come entro nel nether Vengo picchiato da un zombie Sai che sei un figlio di Bottana Chiuse Muori Mi so che non muori col fuoco Però muori lo stesso Zac 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 Non li minaccio ad alta voce Perché sono stronzi Ho paura That point That point That point That point Cazzo Non ho messo il check Eh il check point Certo Il way point Per fortuna che sono morto lì Prima sono sceso da Lì Stavo per scendere da Qui Con molta velocità E destrezza Buttiamo la sabbia Che recupereremo Talmente siamo lenti No No Perfetto Sac 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 Non ci siamo neanche fatti la buona Ahia Fa culo Però io ho questa Dark face Ok Andiamo verso il Ehm Lo rischio Di Soffio di Grandissima Puttana Ho l'impressione che stai cercando di uccidermi Non è che vuole venire qualcun altro Sai Non so cosa fare ve lo giuro Ma fottetevi tutti Io sto qui No Scher Suo figlio di puttana Ammazzo Non ho l'arco Porca Lo rimandate dietro Lo rimandate dietro Scusate Eccomi qua No No Scusate Posso metterlo Un attimino Paceful Vi prego Grazie Ora Rimetterò La normal Tac Così Resete I mob Sì Lo farò in cobblestone Ho deciso Mi piace la cobblestone E userò Yes Yes One Two Three Poi la allarghiamo di One Two Three E' fuori Così da rendere la dispara Non dovrebbe essere Per me E ora vi spiego come funzia Allora Allora La pompa Automaticamente Quando la poggiamo Sopra Un giacimento Di qualcosa Oppure Insomma Appena la poggiamo Lascia cadere Una specie di Cosa Di cui non conosco il nome Che raccoglie Non che raccoglie Che aspira Tutti i liquidi che ci sono Sembra una cosa brutta Ma In realtà è molto utile E noi la utilizzeremo Per portare la lava Nel mondo normale Ma molta Molta lava Per renderla Come dire Elettronica Si può dire Cioè Che la vedano i macchinari Perché normalmente A parte che la lava Normalmente Nel mondo normale Dopo un po' Io disse Chi è latte Finisce Insomma Non è infinita Invece qua ce n'è molta Molta di più Per questo Noi stiamo usando il nether Fatto bene a portarne Dov'è l'altra mia cobblestone? Cioè Tu stai scherzando? No Vabbè Torno subito A frappe Ok Eccomi qua Scusate Pensavo di registrare Invece non ho registrato Comunque In sostanza Sono tornata a casa Ho preso un po' di cobblestone Ho dovuto rifare il piccone Perché mi è caduto di nuovo Nella lava Un piccone Vabbè Dettagli E niente Come avete detto Ho finito la casa Quindi vabbè Credo di avervelo Avervelo già fatto vedere Niente Questa è la casetta Adesso prendiamo La pompa Mettiamo qui Senza cadere Perfetto E la mettiamo Così Ora Non so come farvelo vedere così Esattamente così Ecco Come ho detto Sta scendendo Questa cosa gialla e nera Questa cosa gialla e nera E la pompa Vero e proprio La La parte della pompa Che scende giù Bene abbiamo piazzato la cosa E ora dobbiamo tornare a casa Sarà un'impresa Però Ho deciso che dovremmo scavare Non un tunnel Però almeno Cioè Qualcosa che ci aiuti A tornare a casa In modo semplice E veloce Senza dover incorrere In quei basti In quei simpaticissimi No Non volevo fare questo Volevo fare questo Così Per preservare un po' Cioè Insomma Per stare attenti Cioè Ho paura Io a quel cazzo di cose Di quel cazzo di cose Tei Allora Portalo Dove sto? Portalo Andiamo piano Che se ci troviamo La lava davanti Ci ammazza Così Giusto per dire Ci conviene fare così Ci siamo quasi Così Così Siamo a posto Ci siamo più sicuri No Magari mi crea anche una casetta Davanti alla Avete capito Insomma Non l'avete capito? Ok Intorno al portale Al portalo Scusate Magari Giro un pochino Qua Ancora Dovrò iniziare anche a salire Sta davvero finendo il tempo Sono proprio agli sgoccio E Quindi dovrò muovermi Un pochino Ok Scusate ma non posso farlo Off camera Perché Non ho neanche il tempo Di Di fermare il tempo Di fermare il tempo Parliamo Di fermare il timer Ok Siamo quasi arrivati Finire il piccone La domanda È lecita La risposta pure Dai dai Siamo a fianco Siamo a fianco 55 bluchi però Ma che cazzo sto a fare Sto a fangasino Ok Sì lo so che questa parte È un po' noiosetta Un po' Parliamo Un po' molto Noiosetta Però devo farlo per forza Scusatemi Mi piace tantissimo Però Ok Ci siamo Allora Quello che voglio fare Ora In questi ultimi 5-10 minuti È semplicemente Mi sa che oggi Mi piace una puntata Da 40 minuti Comunque Dettagli Non ho visto che da far Spiegano per voi Quello che devo fare adesso È Innanzitutto Creare No Magari no Sto parlando solo Lo so Portale Eccoci qua Se mi arrivate al portale Magari Fermi tutti Facciamo una bella precetta Dove Ok L'ho già perso Non tratta Ah Ecco Eccoci qua Facciamo una bella freccia Questa è la mia freccia E facciamo così Tac No Scusato Sbagliato Tac 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 E così capisco dove devo andare Perfetto Ora torniamo a casa Prendiamo un pochino di roba Perché ci serve un pochino di roba E vi faccio vedere io Cosa facciamo oggi In realtà oggi non abbiamo fatto molto Non puoi Carica Carica No Questo dobbiamo metterla a posto La Cobleson Ah qua ha tagliato l'albero per Dire Ma venite già corti dalla Legna che ciò qui Che ciò Che ciò non si può dire Ok C'è così Facciamo così Anche se non ne ho Benissimo Mi diamo tutto qui Poi dopo Un giorno lontano Lo ritireremo Ora Nel frattempo vi spiego Cosa voglio fare Innanzitutto ci servono dei motori I motori che faremo sono Quelli che vi faccio vedere Engine Sono questi Combusti e engine Quindi ci servono Iron gear Sono 4 8 11 11 11 pezzi di iron Anzi 12 Con il pistone Sono 12 pezzi di iron Per ogni Combusti e engine Facciamo che ne facciamo 3 Cazzo Un bel po' Vabbè Per mezzo stack No così non ci basta Per me tutto Lasciamo un pezzettino così E ci facciamo 3 Non si 6 Rotellina 1 2 3 4 5 6 6 6 6 Ne ho fatto 7 Fai più Scusate un attimo Eccami scusate Una togliamo Cioè la togliamo Parliamo Resta là Oddio la fretta Ho troppa fretta, scusatemi Purtroppo il tempo scherzi Vi ho già spiegato la situazione Se non l'avete ancora visto Guardate l'ultimo vlog che ho fatto Qui spiego la situazione In questo momento Ok, come qua di nuovo, scusate Allora, ci servivano Tre pistoni, sì Allora, facciamo Ho sbagliato, chest Redstone, ok Ci mettiamo così Non ho del legno, sì, ce l'ho Facciamo così Facciamo un, due, tre Tanto l'avrò sbagliato, sicuramente Perché non mi ricordo mai se c'è la cobblestone qui o c'è il legno Ma va bene Dobbiamo muoverci soltanto, quindi Iron, one, two, three Ok, vediamo qui Vediamo queste così Glass Tre, sei No, che culo Ce ne abbiamo, abbiamo glass Di solito succedeva che non ce l'avevo Ok, ho fatto bene a prendere tutto lo stack Ed ecco i nostri combustion engine I combustion engine vanno A A A lava Però hanno bisogno dell'acqua per il raffreddamento Se no esplodono Quindi Adesso li abbiamo fatti Ora non li useremo perché Li ho fatti preventivamente a quello che faremo prossimamente Ora ci serve un'altra cosa Adesso voglio vedere se No, non abbiamo carta Porca c'è la puttinezza Torno subito, vado a cercare qualche canale zucchero A dopo Ecco di qua, allora Ho piantato delle sugar canes fuori Che ho trovato tipo verso là Dove c'erano le mucche più o meno E qualche maialetto Sì Perché mi serve cibo Ho dovuto uccidere tutto quello che si muoveva Ecco Circa Così Allora ho già messo a posto Sì, ok, allora abbiamo la leather Che non ci serve Sì, ci serve anche questa Cazzo, senza farla posta Come si faceva la carta così Ci serve tutta Poi No Così Ci sono dei libri Ho sbagliato, si fa il contrario Così Zac, zac, zac Ce ne servono due, però ne facciamo Quattro per Qualche motivo che poi vi spiegherò Anzi ve lo spiego ora Semplicemente Voglio fare un libro Innanzitutto il libro Che link ha qui Però, no, questo ve lo spiego dopo, dai Ora ci serve Ci serve Non mi ricordo come si chiama Azzarola Lo cercherò La risposta è no Si chiama Vabbè Mi ricordo che si chiama con l'ender Per Usage No, no Forse se vado avanti a cui L'ho visto, l'ho visto, l'ho visto Chunk loader Ci serve il chunk loader Si fa così Allora Cinque pezzi di gold No, innanzitutto facciamo l'enchantment table Sono quattro diamanti Quattro obsidian E un book Di mortecchi Allora, obsidian la possiamo fare con il legno Ebbene, si Quindi Finito il tempo Ma noi aggiungiamo tipo due minuti Due minuti contati Perché poi finisce veramente completamente Allora, due minuti Aggiunti Ok, facciamo Finisco questo e poi E poi niente Che faccio? Ma che faccio? L'obsidian si fa con due di legno Quindi Ce ne da uno Quindi ci servono Allora Quattro obsidian Però ne dobbiamo fare due di enchantment table Quindi Ne facciamo otto Otto per due, sedici Quindi Sì Eh, sì Facciamo così La trasmutiamo in obsidian No, devi ridarmela tipo Ok Poi cos'altro ci serve? Due diamanti Ci siamo quattro diamanti Quindi Quattro per quattro Sedici Pezzi di Cosa che non abbiamo Però li possiamo trasmutare da Una cosa che non abbiamo Eh, siamo un po' nella cacca Come si suol dire Cazzo Il ferro da cosa si faceva? Iron L'iron si fa Con Sacche Sacche No, così Con l'ossidiano Con la clay È vero Ti amo clay Abbiamo clay Non abbiamo clay Però abbiamo clay Yes Con i cubi di clay Parliamone Non è poi così tanto conveniente Però È l'unica cosa che possiamo fare E poi tra l'altro ne faremo anche ben pochi Ne faremo tipo due pezzi O quattro Due Facchiuma Facchiuma No, non ce la facciamo Devo andare in miniera Va bene, allora lo facciamo nella prossima puntata Io sono Spiga98 Come vedete ho perso completamente la cosa di steal Questa Eh, perché è finita Completamente non ci ho pensato a salvarla Allora Il video è finito Se vi è piaciuto mettete mi piace Iscrivetevi e condividete Io sono Spiga98 Mi trovate su Twitter Su Gold Plus E sul mio sito Spiga98.x10.mx Come al solito vi consiglio di Seguirmi sui social network Perché in questo periodo Sono tipo pieno di notizie E niente Ci vediamo nel prossimo video Ciao a tutti Ciao